I sette consiglieri di maggioranza a Gioia Tauro, pur di fare un dispetto all'assessore alla cultura Francesco Toscano ed avere la sua testa, lo contesta, oramai, su ogni aspetto della sua azione politica. Ora anche l'arrivo di Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, a Gioia Tauro per uno spettacolo teatrale, per il no al referendum costituzionale, diventa spunto di contrasto tra le parti e un motivo in più per gettare benzina sul fuoco della polemica. Alcuni dei sette consiglieri ribelli firmatari della richiesta di revoca riguardante Toscano preannunciano di essere pronti ad inoltrare al sindaco una nuova richiesta relativa alla revoca di una delibera di giunta, la numero 136, del 14 settembre scorso, che dispone un impegno di spesa per 6.500 euro destinati al pagamento di uno spettacolo teatrale in programma per venerdì prossimo dal titolo Perché No, che vede protagonista il giornalista Marco Travaglio in un lungo monologo sul palco, al quale farà, da contorno Giorgio Salari, sulle motivate ragioni di un voto negativo al prossimo referendum. Non è uno spettacolo teatrale, afferma uno di questi consiglieri ribelli, ma un appuntamento politico e per lo stesso, pare, si sia anche emosso un partito politico definendo il provvedimento della giunta comunale di Gioia Tauro un atto da considerare illegittimo. Nel frattempo i sette irriducibili consiglieri della maggioranza che hanno chiesto al sindaco Pedà la testa di Toscano sono in attesa della convocazione del consiglio comunale che dovrebbe essere fissata al massimo nel giro di due settimane, ovvero nella seconda metà di ottobre nel rispetto dei termini previsti dal regolamento. I sette firmatari, Cavallaro, Ragneri e Tomaselli di Forza Italia, Cammereri e Raco eletti per la lista quartieri, Guerrisi di area popolare e Parrello della lista alternativa per Gioia, non fanno mistero di essere molto decisi nella richiesta inoltrata al sindaco con la quale lo invitano a revocare l'incarico di assessore alla cultura Francesco Toscano, in caso contrario sostengono, ovvero se Giuseppe Pedà non dovesse accogliere la richiesta, bollono già in pentola altre iniziative, ossia chiederanno una verifica sulla fiducia al sindaco. In tal caso un altro interrogativo è d'obbligo. Quanti sono i consiglieri dell'opposizione che appoggeranno la richiesta per una eventuale verifica che potrebbe mettere in serie difficoltà Giuseppe Pedà che occupa da 15 mesi la prima poltrona del palazzo di Sant'Ippolito?